FUJIFILM HEALTH CARE Endorunner nasce un paio di anni fa con una finalità di tipo formativo. Il nostro obiettivo era proprio di mettere a disposizione un hub mobile con tre sistemi di endoscopia per università ospedali in modo da poter fornire un hub mobile in grado di dare la possibilità a medici, a studenti, a infermieri di poter provare l'utilizzo delle migliori tecnologie. Dopo questa esperienza di successo che ha visto 12 tappe conclusa l'anno scorso abbiamo deciso di rinnovare l'utilizzo di questo hub però con una finalità di tipo conoscitivo e legato alla prevenzione. Quindi quest'anno noi abbiamo organizzato 5 tappe e quella di oggi qui a Roma a Montecitorio è la prima dove porteremo l'Endorunner nelle piazze proprio per parlare di prevenzione del tumore del colon retto. Dopo questa prima tappa qui a Montecitorio a Roma ovviamente aspettiamo tutta la popolazione alla prossima tappa che si terrà il 5 aprile a Milano. In piazza di Montecitorio sosta una vostra stazione endoscopica mobile chiamata Endorunner. Cos'è e a cosa serve? Allora Endorunner è un piccolo van dotato di tre postazioni di tre colonne endoscopiche che ha lo scopo proprio di mostrare alla popolazione, a tutti noi, quelle che sono le procedure di endoscopia, quindi gastroscopia e colonoscopia. Questo è particolarmente importante perché il mese di marzo è il mese dedicato alla prevenzione del tumore del colon retto e quindi vogliamo sensibilizzare la popolazione sull'importanza di effettuare diagnosi su questo tumore che purtroppo è ancora uno dei principali. Oggi lanciate anche la campagna di sensibilizzazione e fai della prevenzione il tuo stile di vita legato alla moda. In cosa consiste? Allora abbiamo voluto legare questa giornata anche alla moda per un motivo molto semplice. È essenziale continuare a parlare di prevenzione. La prevenzione la dobbiamo fare tutti noi quotidianamente. Come poniamo attenzione alla nostra vita, al nostro stile di vita, a come ci vestiamo, a come ci trucchiamo ogni mattina, dobbiamo nella stessa maniera porre attenzione alla prevenzione, quindi allo stile di vita che attuiamo perché questo influenza molto la possibilità di nascita di tumori. E quindi abbiamo voluto proprio cogliere questa occasione di legare la moda alla prevenzione proprio per ricordare da un punto di vista proprio pratico alle persone quanto sia importante che la prevenzione rientri nel nostro stile di vita. Grazie. Grazie a tutti.